Domani capitolo 8 dal versetto 5 al versetto Questa è la prima parte di un messaggio che continueremo anche domenica prossima Il titolo del messaggio è La mente controllata dallo spirito Ovvero come scegliere per Dio Cos'è che determina le tue decisioni? Tu come fai a decidere? Come facciamo a decidere? Si spera usando il cervello Ci sono persone che ragionano senza il cervello Almeno i proverbi dicono così Ma in realtà non è così Ogni decisione che noi facciamo L'impulso parte dal nostro cervello Giusto? Dalla nostra mente Allora Romani capitolo 8 dal versetto 5 al versetto 8 dice Infatti quelli che sono secondo la carne Pensano alle cose della carne Invece quelli che sono secondo lo spirito Pensano alle cose dello spirito Ma ciò che brama la carne Oppure un'altra traduzione dice Cioè la nuova Deodati dice La mente controllata dalla carne È morte Mentre ciò che brama lo spirito Oppure la mente controllata dallo spirito È vita e pace Infatti ciò che brama la carne O la mente controllata dalla carne È nemicizia contro Dio Perché non è sottomesso Alla legge di Dio E neppure può esserlo E quelli che sono nella carne Non possono piacere a Dio Tu vuoi pensare come Dio pensa? Vuoi vedere come Dio vede? Vuoi sentire quello che Dio sente? Hai bisogno della mente di Cristo Sei d'accordo con questo pensiero? Alzino la mano tutti quelli Che hanno la mente di Cristo Potete alzare tutti la mano In fede Potete alzare tutti la mano Amen? È come se io vi chiedo Quanti hanno la salvezza Vediamo quanti hanno la salvezza Potete alzare la mano Tutti Allora avete la fede per la salvezza? Se tutti avete la fede per la salvezza Potete tutti avere fede Che avete la mente di Cristo Amen? Allora fai così Di a te stesso Io ho la mente di Cristo Io ho la mente di Cristo Perché se tu sei il primo che non ci crede È difficile che ne puoi sperimentare la potenza Sei d'accordo? Hai fede che tu hai la mente di Cristo Perché è per la mente di Cristo Che tu puoi vivere la vita del cristiano Senza la mente di Cristo Tu non puoi vivere la vita del cristiano Sei d'accordo con questo? Perché la parola di Dio dice Che la mente Che è controllata dalla carne Non può essere amica di Dio Proprio non può esserlo Per sua natura Lo rileggo La mente controllata dalla carne È inimicizia Contro Dio Quanti qua sono nemici di Dio? Alzino la mano Nessuno Alza la mano Quindi siete tutti amici di Dio Quindi se siete tutti amici di Dio Significa che avete tutti la mente di Cristo Amen? Amen? Come era Cristo? Come era la mente di Cristo? Come è la mente di Cristo? Devi realizzare quello che tu hai dentro di te Metti fede in quello che c'è dentro di te Come era la mente di Gesù? Cosa era capace di fare Gesù? Cosa era capace di fare Gesù? Tutto! Esatto! Ottima descrizione E di più Cosa sei capace di fare tu? Tutto In Cristo Perché è possibile? Perché Cristo è in te Amen? Sapete qual è il problema? È che non ci crediamo Perché si vede da come si parla Che non ci crediamo Allora Quando noi andiamo in giro Per le strade Vivendo la nostra vita di tutti i giorni Possiamo viverla Credendo che abbiamo la mente di Cristo E vivendo secondo la mente di Cristo E la mente di Cristo sappiamo per certo Che era controllata dallo Spirito Amen? Oppure possiamo viverla con la mente controllata dalla carne Come vede la mente controllata da Cristo? La mente controllata dallo Spirito Santo La mente di Cristo Vive ogni giorno Come il piano di Dio Che si compie in quel giorno Io mi alzo dal letto Sapendo che il piano di Dio Si compirà per me in quel giorno In quel giorno succederà qualcosa Che Dio ha previsto E preparato per me E io sono equipaggiato Sopranaturalmente Per compierlo Amen? Quindi io ogni giorno Io sono un uomo di destino E io farò il destino Di me stesso Delle persone che mi circondano Della nazione Cammini con questa consapevolezza Tutti i giorni Cammini con la consapevolezza Di fare la storia Ogni giorno della tua vita Però è così che devi camminare Perché è così che Gesù camminava Sia quando faceva il falegname Sia quando faceva il predicatore È vero o non è vero? Gesù non ha avuto bisogno di avere 33 anni Per stare nella casa del padre Lui è già a 12 anni Era nella casa del padre Perché lui aveva la mente Controllata dallo spirito Già a 12 anni Tutto era dentro di lui E lui era capace di stare Nella casa di Dio Noi siamo capaci di stare Nella casa di Dio? Non so se siamo capaci o no Ma una cosa è sicura Noi possiamo Tu puoi Non pensare che non puoi E questo indipendentemente Da dove tu sei Nel tuo cammino con Dio Sai questo? Che tu sia nato da un giorno Che tu sia nato da dieci giorni Che tu sia nato da un anno Da dieci anni È per fede Quello che tu decidi Di credere per fede È quello che tu ottieni Se tu cammini Nella fede Che le cose possono succedere Nella tua vita E che non c'è niente Nella tua vita Che può impedire Il piano di Dio Nella tua vita Allora tu vedrai La gloria di Dio Se tu cammini Credendo Che non hai la mente di Cristo Che sei un po' limitato I tuoi sforzi sono pochi O non ti sei santificato abbastanza O non hai pregato abbastanza O non hai fatto Quello che dovevi fare Dovevo fare di più Allora Può essere anche tutto vero Può anche essere tutto vero Ma se tu decidi In quel momento Di stare alla presenza di Dio Niente ti può fermare È solo una questione Di tempo Di dire Sì signore Io lo voglio Sono qui Aspetto che tu ti muovi E se tu ti sei posizionato Nel posto giusto Allora qualcosa succederà Ora voi dite Che cosa c'entra con tutto questo? C'entra Con la mente controllata dallo spirito C'entra Il signore mi ha dato Queste Diciamo rivelazioni Questi pensieri Più di un mese fa Però Due giorni fa Mi sono svegliato Non mi ricordo Se era un sogno O se era una visione Perché non ero tanto sveglio Però Ho visto Un mare Con un pesce dentro E il signore Che mi diceva La mente La mente controllata Dallo spirito Ok Cosa voglio dire Il pesce Secondo voi È controllato Dall'acqua No Allora Tirate fuori il pesce Dall'acqua Vediamo che succede Muore Voi siete controllati Dall'aria Che respirate E dipende Che cosa intendiamo Per controllo Controllo Non è Solo Qualcuno Che ci dice Che cosa Dobbiamo fare C'è Un'altra forma Di controllo Nella nostra vita Ed è Il grado Di Interdipendenza Che noi abbiamo Con determinate cose La Bibbia dice Ciò che brama La carne È morte O La mente Controllata Dalla carne È morte Mentre ciò che brama Lo spirito O la mente Controllata Dallo spirito È vita È pace Allora Quel pesciolino Sei tu O la tua mente E tu Stai nell'acqua Senza l'acqua Tu non puoi vivere Ok Il punto è Che tipo di pesce sei E in che tipo di acqua stai Ok Perché Tu puoi essere Un pesce gatto E stai nelle acque Del po Che più sono sudici E meglio è Ok Sapete dove si pescano I pesci gatto Nelle acque del po E il pesce gatto Sta sul fondo E mangia tutto Lo schifo che c'è Ok E quello è il suo Ambiente naturale Come i maiali I maiali Hanno bisogno Del fango E hanno bisogno Di tutto quello Che fanno Che mangiano Ok Quello è il loro Ambiente naturale Sono interdipendenti Se tu li togli Da quell'ambiente Loro non riescono Più a vivere E Chi è nel mondo E chi è nella carne Sguazza E vive Ed è in relazione Con l'ambiente Che lo circonda E da quell'ambiente Trae la vita Così come Chi è nello spirito Sta nello spirito Nuota nello spirito E da quell'ambiente Trae vita Vi sembra Che non è biblico È biblico Perché la Bibbia dice Che se tu vuoi venire a Cristo Devi morire Quindi pesciolino Sapete cosa succede Ai pesci che subiscono Un cambiamento di acqua Troppo forte Muoiono Non sapevate questo? Escursione termica O da un'acqua troppo sporca Un'acqua troppo pulita Allora succede così Nel battesimo Pesciolini Io vi farò pescatori di uomini Un pesce viene preso Dall'acqua sporca Viene buttato nell'acqua pulita Muore e nasce Come un'altra forma Un bel salmone Delle acque nordiche Pulitissimo Buonissimo Per essere mangiato Ora Noi siamo controllati Dall'ambiente In cui stiamo Magari può non succedere In un giorno Una forma di controllo Questa forma di controllo Che vi ho appena detto Una interdipendenza Ma sei tu che scegli In che ambiente stare E tu sei libero Di scegliere In che ambiente stare Quindi non sei controllato Nelle tue decisioni Però L'ambiente in cui Decidi di stare Ti influenzerà E ti influenzerà E ti influenzerà E ti influenzerà Fino a quando Diventerà Molto molto difficile Per te cambiare Giusto? Sei d'accordo? Questo succede In ogni cosa Della vita Succede Nella religione Succede Negli ambienti Lavorativi Lo sapete Che quando uno è stato Tanti anni In un ambiente di lavoro Poi cambiare Diventa difficile Diventa anche doloroso A volte cambiare Un posto di lavoro E l'ambiente Che noi decidiamo Di frequentare Anche l'ambiente spirituale Che noi decidiamo Di frequentare Ha una Ha delle conseguenze Sulla nostra vita Noi Vediamo Se noi vogliamo vedere Come Dio vede Abbiamo bisogno Di pensare Come Dio pensa Perché la visione Di Dio È il frutto Del pensiero Di Dio E viceversa In un continuo circolo Che si autoalimenta Cosa significa questo? Quando tu ti alzi La mattina Ogni giorno Per vivere Tu hai bisogno Di camminare Con i pensieri di Dio Con la visione di Dio Gesù diceva Io non faccio niente Che non vedo Fare al Padre Gesù Aveva la visione Dei pensieri di Dio E quei pensieri Conducevano La sua vita Quindi tu ti puoi Alzare ogni giorno E avere la visione Di Dio Per la tua vita E per la vita Degli altri E allora camminerai In vittoria Camminerai Con la potenza Di guarire Di trasformare Di testimoniare Oppure poi Non avere la visione Di Dio E questo È naturale Per uno Che ha la mente Controllata dalla carne La parola di Dio La parola di Dio Dice che le vie Di Dio Non sono le nostre vie Le vie di Dio Sono più alte Ok Allora la nostra mente È abituata A vedere Ad un'altezza Un metro e ottanta Un metro e cinquanta Un metro e sessanta La mente di Dio Vede ad un'altra altezza Con un'altra precisione Con un'altra profondità Solo che avere Quella visione Non è naturale È soprannaturale Quindi per avere Quella visione Tu hai bisogno Di stare nell'acqua giusta Nell'ambiente giusto E l'ambiente giusto È lo spirito Amen E questa è la parola di Dio Lo dice molto chiaro Perché dice Quelli che sono Secondo la carne Pensano alle cose Della carne Quelli che sono Secondo lo spirito Pensano alle cose Dello spirito Quindi tu sei stato Rigenerato per lo spirito Hai bisogno Che la tua mente Pensi alle cose Dello spirito E più pensi Alle cose dello spirito Più lo spirito Controllerà la tua mente C'è una lotta Per il controllo Della tua mente E tu puoi decidere A chi lasciarla controllare Perché ci sono forze Più grandi di te Che intervengono Nella tua vita E tu puoi decidere A chi dare spazio È una tua decisione Però arriverà Un'influenza Nella tua vita Può essere L'influenza Della carne O l'influenza Dello spirito E la carne È il terreno Fertile Per Satana Quindi più tu scegli Di dare spazio Allo spirito Più sarai condotto Guidato Interdipendente Con lo spirito Capace di muoverti In quell'ambiente Il pesce È libero Nell'acqua Il pesce È libero Nell'acqua Il pesce È felice Nell'acqua Il pesce Sta bene Il pesce Si nutra Il pesce Si riproduce Nell'acqua È un buon controllo Dell'acqua Sul pesce Sì È il suo ambiente naturale Ok Quindi c'è un buon controllo E un cattivo controllo Noi vogliamo essere Nel buon controllo Dello spirito santo Amen Faccio un altro esempio Per capire come La mente Si nutre Di quello che vede E anche il contrario Noi vediamo In base a ciò Di cui la nostra mente Si nutre Ovvero Se io sono un ragazzo A cui piace La violenza Quando vado al cinema Che film mi vado a vedere Film romantici No Infatti ci sono sempre problemi Quando le coppie vanno al cinema Perché le donne vogliono vedere Film romantici La commedia romantica E gli uomini vogliono andare sempre A vedere film d'azione Allora Se io sono una persona A cui piace la violenza Vado a vedere Dei film violenti Quando vado a vedere Quei film violenti Succede qualcosa Dentro di me Sì Che quella violenza Che è dentro di me Viene Come? Alimentata Viene fuori Viene scibata In un certo senso C'è una parte di me Che è felice Perché Guarda che bella Scazzottata Che si sono dati E io sono felice In quel momento Perché la mia carne Si è scibata Ok? Però Quel cibo È un cibo velenoso Che mi produce morte Poi torno a casa Che cosa succede? Io ho visto delle cose Quelle cose Hanno alimentato La mia mente E poi Cosa succede? Che magari Me le sogno Giusto? Perché è arrivato Un seme Dentro di me E quindi Vedo Ho visto delle cose Sono entrate dentro di me Comincio a fare Dei pensieri E i miei pensieri Suscitano Una nuova visione Poi il giorno dopo Vado per strada Mi tagliano la strada Sapete I milanesi Non tagliano mai la strada Lo sapete? A Milano Non tagliano mai la strada Poi a Milano Salutano sempre Sapevate che a Milano Salutano sempre Tu ti sveli la mattina E dici Buongiorno E non senti mai La risposta Vai al casello Paghi Grazie Va bene Prossima volta E non ti rispondono Una volta Non ti rispondono Due volte Non ti rispondono Tre Ti tagliano la strada Una volta Ti tagliano la strada Due volte E a un certo punto Che cosa inizi a pensare? Ti fai le visioni Nella mente Io quello lì Ti spaccherei la testa Per chi ha problemi Di violenza Ok? Per chi ha problemi Di rabbia Cosa succede? Che naturalmente Il nostro uomo interiore Viene portato ad agire In base a ciò che è la sua attitudine A ciò che è il suo modo di vivere A ciò che è il suo pensiero A ciò che ha guardato Questo ambiente Tu te lo stai creando Piano piano Giorno per giorno Giorno per giorno E Satana Non è contento Che tutti i cibi di violenza Quindi Fa di tutto Per non farti vedere film violenti Fa di tutto Per non farti vedere violenza Vero? Il mondo ti preserva Dalla violenza Il mondo ti preserva Dalle guerre Vero? Dall'odio Non sentiamo mai notizie Che riguardano la violenza Vero? Accendiamo il telegiornale Sono tutti rose e fiori No, non è così Sentiamo di I padri che ammazzano i figli I figli che ammazzano i padri L'amante Il marito che va a uccidere l'amante La moglie che uccide il marito Perché ci aveva l'amante È tutto È tutto uno scambio di violenza Di tradimenti Di sessualità Usata nel modo sbagliato C'è un continuo bombardamento Perché? Perché Satana Ti gratta la pancia Vuole svegliare La carne che è dentro di te E come lo fa? Lui ha capito una cosa Che è una verità L'essere umano È una creatura Di desiderio Di passione Se noi vogliamo vivere La vita di Cristo La vita dello spirito Abbiamo bisogno Di essere Un popolo di passione Di conoscere Quali sono i nostri desideri Di conoscere Quali sono i desideri Buoni E di alimentare Quei desideri Sapete Perché tanti Si allontanano dalla fede? Perché non hanno passione E perché E quando tu non sei innamorato Ma chi te lo fa fare Di venire? Perché Quando tu stai Con le persone noiose Ti fa piacere stare Con le persone noiose? No È normale Quando tu stai in un posto Dove non ti diverti Ti fa piacere starci? No Quando tu stai in un posto Che ti piace Con delle persone Che ti piacciono Sei contento di starci? Sì Ci vuoi tornare? Sì Allora Se per te Gesù è una persona bella E divertente Ci starai Se i tuoi desideri Le tue passioni Sono per questo Allora ci starai Se la vita cristiana Per te È divertente Entusiasmante Appagante È quello che tu stai cercando E allora la vivrai Se non è così Allora te ne andrai Perché tu hai desideri Dentro di te Ci sono i desideri della carne E i desideri dello spirito Il desiderio dello spirito Cos'è? Desiderio di giustizia Desiderio di verità E poi ci sono dei desideri Che sono Possono essere usati Sia per il male Che per il bene Il desiderio della bellezza Tu puoi cercare Tutti noi cerchiamo la bellezza E tu puoi trovare Una santa bellezza O una bellezza non santa Il desiderio di grandezza Tutti noi vogliamo essere grandi Tu puoi essere grande In Dio Nel modo giusto O puoi essere grande In Satana Nel modo sbagliato Il desiderio di potere Il desiderio di fare la storia Ci sono desideri Dentro ognuno di noi Che sono stati messi lì Da Dio Solo che Satana Fa leva su questo Per portarti dalla sua parte Cosa leggiamo in Genesi? Al capitolo 3 Versetti 5 e 6 Chi vuole leggerlo? Capitolo 3 Versetto 5 e 6 Ma Dio Sa che nel giorno Che ne mangerete I vostri occhi Si apriranno E sarete come Dio Avendo la conoscenza Del bene e del male La donna osservò Che l'albero Era buono Per proteggersi Che era bello Da vedere E che l'albero Era desiderabile Per acquistare conoscenza Com'era l'albero? Ed era desiderabile Buono A quanti piacciono le cose cattive? A nessuno A quanti piacciono le cose brutte? Nessuno Ok Quindi L'uomo era attirato Dalla bontà Dalla bellezza E aveva un desiderio Era desiderabile Quell'albero Era desiderabile Ed era desiderabile Per cosa? Per diventare cretini No Non era desiderabile Per quello Era desiderabile Per ottenere Cosa dice? Conoscenza Il desiderio Della conoscenza È dentro Ognuno di noi Il desiderio Delle cose soprannaturali Satana Questo lo sa molto bene E anche Dio Lo sa molto bene Dio vuole mettere in noi La sua sapienza Satana vuole mettere in noi La sua sapienza Dipende Da che In che acqua Decidiamo di stare Da che albero Decidiamo di mangiare La mente controllata Dalla carne La mente controllata Dallo spirito La conoscenza Che decidiamo Di ricevere Nella nostra mente Amen? Questa è una cosa Che parte Da Genesi E lo vediamo Lungo Tutte le scritture Cosa dice La parola di Dio Di Daniele E dei suoi amici Che loro avevano Più sapienza Di tutti I magi Che erano in Babilonia C'è uno scontro Per la sapienza E la conoscenza Loro avevano La conoscenza La sapienza Dello spirito di Dio Ed erano in grado Di capire Di comprendere Ogni genere Di visione E di sogno Non possiamo essere Il popolo di Dio Se non camminiamo In queste cose O meglio Possiamo esserlo Ma saremo Limitati E quando saremo In questo genere Di battaglia Le saremo sempre Dalla parte Di chi soffre Perché Subiremo Un attacco Invece di essere Attaccanti Allora Quello che l'uomo Desidera Quello ricerca E quello ottiene Gesù dice la stessa cosa Chi cerca Trova Sarà aperto A chi bussa E sarà aperto Non è che ci sono Solo porte belle Se tu cerchi qualcosa Se tu cerchi Delle cose Che dietro Hanno la morte Tu troverai la morte Se tu cerchi il brivido Cerchi il brivido Cerchi il brivido Fai le corse Clandestine Fai questo Fai quest'altro Prima o poi Che cosa trovi La polizia Il carcere La morte È naturale Te le vai a cercare Ok Se tu vieni qua In chiesa La domenica È difficile Che ti arresteranno Per eccesso di velocità Si spera Ok È difficile Che ti arresteranno Di che la polizia Verrà a trovarti Perché hai fatto Corse clandestine E hai violato la legge Per ora Quando poi Ci metteranno fuori Legge Ti verranno a cercare Quindi L'uomo ha dei desideri Dentro di sé L'uomo interiore Ha degli appetiti Che possiamo Tradurre con una parola Fame Fame E la fame Per sfamarsi Ha bisogno di cibo C'è un cibo buono E c'è un cibo malvagio C'è una fame buona E c'è una fame non buona L'uomo Nel giardino Aveva fame Di conoscenza E ha preso Un frutto Di cui si è cibato Che gli ha prodotto Della morte La mente È la fonte Da cui prende forma Tutto ciò che siamo Proverbi 23.7 Dice Poiché Come l'uomo Pensa nel suo cuore Così Egli è Tutto ciò Che entra Nella mente Si traduce In pensieri Che a loro volta Si traducono In parole Le quali determinano Le nostre azioni E a lungo andare Queste stabiliscono In noi Delle attitudini Che contribuiscono A formare Il nostro carattere E quindi Il nostro stile Di vita Ogni cosa In noi Prende avvio Dalla mente La mente La mente è un campo Di battaglia E territorio Di conquista Qualcuno vuole Controllare La tua mente Questo qualcuno È Dio Questo qualcuno È Satana Ok La tua mente Genera pensieri In base A ciò Che vede Questo è un principio E quello che tu vedi Tu diventi Contemplando Come in uno specchio La gloria del Signore Veniamo trasformati Alla sua immagine Di gloria in gloria Andiamo a prenderlo Secondo Corinzi Capitolo 3 E ho concluso Ho concluso Per questa volta Prossima domenica Secondo Corinzi Capitolo 3 Versetto 17 E 18 Chi legge? Ora il Signore È lo scritto E dove è lo scritto Del Signore Vivi e libertà E noi tutti Contemplando A faccia scoperta Come in uno specchio La gloria del Signore Siamo trasformati In una stessa immagine Di gloria in gloria Come per lo spirito Del Signore Ok E poi leggiamo anche Al capitolo 4 Dal versetto 4 4-4 Chi lo legge? Per cui cresci Ai quali Il Dio di questo mondo Ha cercato le menti Affinché non esplenda Allora La luce del Vangelo Della gloria di Cristo Che è l'immagine di Dio 5 e 6 Grazie Noi infatti Non predichiamo Nei stessi Ma Gesù Cristo Quale Signore E quanto a noi Ci dichiariamo Vostri serbi Per amore di Gesù Perché il Dio che disse Splenda la luce Tra le tenebre È quello che risplende E è nei nostri cuori Perciò brillare la luce Della conoscenza Della gloria di Dio Che rinforge Nel volto di Gesù Cristo Allora Nei nostri cuori Splende una luce Che è La luce Della Conoscenza Della gloria di Dio E tu dove la trovi Questa luce? Dov'è che splende anche? Sul volto Di Gesù Cristo Allora Se tu guardi Il volto di Gesù Cristo La conoscenza Della sua gloria Si alimenta Dentro di te E per quello Che tu sei La tua mente È in grado Di produrre Pensieri Ed azioni Amen? Allora La prossima domenica Partendo da questa base Quindi abbiamo visto Che cos'è la mente No? La mente È un terreno Ok? Un terreno Che riceve dei semi È anche un campo di battaglia È un terreno Che qualcuno vuole conquistare E abbiamo visto Che cos'è il controllo Quindi l'ambiente Che noi Che noi scegliamo Di avere E abbiamo visto Un principio Che è il principio Della visione Quello che noi vediamo Noi diventiamo E anche Quello che noi Pensiamo Noi vediamo La cosa è ambivalente È ambivalente Io vedo E penso Ma anche penso E quindi vedo Ok? Allora La prossima domenica Vedremo La strategia Di Satana Per il controllo Delle nostre menti E la strategia E la strategia di Dio Per il controllo Delle nostre menti E vi lascio con un pensiero Che è stato uno Di quei pensieri Che mi hanno portato Alla salvezza Quando ero lontano Da Dio Io stavo frequentando Ambienti di estrema sinistra E tornavo a casa La sera discutevo Con mio padre Di che cos'era libertà E parlavo E dicevo Ho detto una cosa Una bestemmia Ho detto Dio è un burattinaio Perché noi Siamo Siamo come dei burattini Nelle sue mani E Invece io voglio essere libero No? Un pesce che vuole provare A vivere senza acqua Impossibile E mio padre Mi ha detto una cosa Che era fuori Dai miei schemi Era fuori Dal mio pensiero Mi ha detto Michele Non esiste la libertà Tu puoi solo decidere Da chi In quali mani Mettere la tua vita Questa cosa Mi ha sconvolto Perché io pensavo Di essere fautore Del mio destino Ma in realtà Non è così Tu puoi solo decidere In che mani Mettere la tua vita Perché in qualche modo Tu sei troppo piccolo E troppo incapace E fatto in modo Da non poter autogestirti È strano questo concetto Però è così Sei una creatura Perfetta Sei completo In ogni tua parte Sei creato Per ospitare Dio Sei creato A sua immagine Quindi Capace di tutto Ma estremamente Ma estremamente fragile Questo Guardate È un mistero Incredibile Dentro di te Tu hai Una potenza Che è mille volte La bomba atomica Però basta Basta molto meno Della bomba atomica Per disintegrarti È vero? È strano questo È un miracolo È qualcosa di Bello Di meraviglioso Ed è una verità Che noi abbiamo bisogno Di accettare Perché fin tanto Che noi non accettiamo Questa verità Dentro di noi Non saremo mai In pace E questo Ha provocato La morte Dentro di me Io mi dovevo Arrendere Dovevo Arrendermi All'evidenza Dei fatti Non potevo essere Colui che gestiva La sua vita Questa è un'illusione Che Satana Vuole raccontare Al mondo Dio non te la racconta Questa bugia Non te la racconta Non te ne racconta Nessuna E questa neanche Ti dice subito Molto chiaro Se tu vuoi La vita eterna Devi morire Lascia Tutto quello che sei Lascia tutto quello Che credi Dammi la tua vita E seguimi Conduco io Non pensare Che ci sarà qualcuno Che con Qualcun altro Che conduce Facciamo un po' io Un po' te Non è così Conduco io Io so qual è la strada Io so dove si va Tu ti devi fidare di me Fede cieca Assoluta La mente controllata Dallo spirito Quindi domenica prossima Rifletteremo ancora Su A chi noi decidiamo Di lasciare Il controllo Della nostra vita A me Alziamoci in piedi Ciao a tutti Grazie a tutti.